Per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il titolo di Entertainer of the Year ai Country Music Awards, il premio più ambito di quelli che sono considerati gli Oscar della musica country. Taylor Swift, appena 22 anni, è la seconda donna a raggiungere questo risultato insieme a Carrie Underwood. Il trionfo della cantante è arrivato da appena 24 ore da un altro importante riconoscimento ai Kids' Choice Awards, dove niente meno che la first lady Michelle Obama l'ha pubblicamente ringraziata per il suo impegno nel campo della beneficenza. Doveva essere un momento di assoluta gioia sul palco dei Country Music Awards per Taylor, ma è stato anche un momento di grande tristezza. Tra il pubblico doveva esserci anche Kevin McGuire, un giovane studente, un suo fan malato di cancro. Taylor lo aveva invitato personalmente alla cerimonia, purtroppo il ragazzo è stato ricoverato in ospedale. Grazie per la visione!